Musica Ecco amici, io credo che il presepio è anticipato quest'anno con il signor Alberto Arotti che io non credo che sia solo un appassionato, credo che sia qualcosa in più perché questa cosa la vive intensamente da quanti anni? Da 40 anni, ho fatto anche i concorsi in Sicilia e mi hanno rilasciato delle attestazioni sempre riguardo al presepio perché sono stato valutato idoneo a essere premiato Certo, io credo che questa passione poi alla fine è giusto che sia anche premiata ma da che nasce questa passione del presepio? Da bambino forse? Da bambino, sì, da bambino e mi hanno insegnato da fare questo presepio e io fino ad adulto l'ho lasciato un po' trascurare dopo ho iniziato di nuovo una volta sposato, ho iniziato a fare il presepio e ogni anno sempre migliore, sempre più bello, sempre più ricchito di personaggi, di scene, di creatività Io credo che questa passione sia una passione che i bambini, credo che ce l'hanno tutti dall'infanzia poi ecco, man mano che si cresce resta quell'animo bambino per noi che ovviamente poi bambini restiamo sempre un pochettino Sì, poi anche perché mi piace tramandare questo genere di presepio anche ai piccoli, fai conoscere che non c'è solo l'albero di Natale con i suoi doni sotto ma c'è un presepio dove Gesù veramente nasce e è creativo creativo perché nell'idea delle persone viene visto, viene realizzato, viene ideato E poi la rappresentazione del bambino Gesù fa parte della nostra storia dei cristiani, dei cattolici Esatto, esatto, perlomeno ci hanno insegnato, siamo andati avanti e abbiamo, non lo so, migliorato Siamo vissuti e cresciuti e abbiamo migliorato Crescere insieme al presepio ogni anno sempre diverso, ogni anno sempre migliore Migliorarlo Amici, un bel messaggio da Porto Potenza Picena che diciamo, come diceva il mio amico grande imprenditore il vecchio nome di Potenza Picena diciamo è un nome molto forte che ovviamente non tutti sanno, ce lo dice il signor Marotti Sì, io sono cresciuto, sono nativo proprio di Porto Potenza Picena sono cresciuto nel Borgo Marinaro, diciamo soprannominato le casette e per abbellire le casette io faccio questo presepio in modo che la gente viene a trovarmi viene a vedere Porto Potenza e spende anche qualche soldo anche nei commercianti del posto che sono tanti e sono numerosi e sono soprattutto molto preparati per ricevere il turista Turista presepio Turista presepio Bene, amici, allora Porto Potenza Picena è una bellissima città di mare anche d'inverno, che poi l'inverno ancora non è arrivato quindi aspettiamo poi qualche fiocco di neve che abbellirà notevolmente anche la scena del presepio Sì, speriamo che l'inverno è brutto però il presepio ci porta all'inverno, ci porta a essere vicini ci porta a amarci uno con l'altro Auguri da Potenza Picena